E buonasera, bentornati ad Oror Camomile. Oggi parleremo di quattro grandi film con la regia di Ovidio Assonites. E allora, buonasera, buonasera a tutti, bentornati ad Oror Camomile. Ci siamo, oggi parleremo di un grande regista, a volte sottovalutato, comunque di cui se ne parla sempre poco, Ovidio Assonites, quindi... Pronti? Ciao, il nostro Francesco Lomuscio. Ciao a tutti, saluto tutti, eh? Saluto tutti. Ciao Francesco. Mi senti? Sì, mi sento. Sì, ti sento benissimo. Facciamo entrare anche Fabrizio. Ciao Fabrizio. Eccomi. Ciao Francesco. Ciao Dania. Ecco, ti facciamo entrare anche Alice. Vediamo un po'. Poi vedi come sei vestita oggi. Vediamo un po'. Guarda che star, eh. la faccio vedere. Fai vedere come sta. Mi va aspettare. Eh, lei è fantastica. Ah, ti è rosso fuoco. Ciao Alice. Sprendita come sempre. Allora, ciao Alice. Come stai Alice? Ciao a tutti. Bene, bene. Grazie. Spero che stiate tutti bene, che queste influenze se ne vadano, perché ogni tanto nel gruppo leggo ancora gente con la febbre, con la tosse. Speriamo che se ne vadano. È vero, è vero. Speriamo che questi influencer se ne vadano. Francesco, oggi ti vedo, l'ho detto anche ieri, Fabrizio lo sa, vedo che da quando stanno entrando, insomma, personaggi con la spunta blu, vi vedo sempre più truccati in diretta. Beh, insomma, abbiamo fatto, dai, non diciamo i nomi. Noi lo sappiamo perché ci mandiamo, non è carino, no, mettiamo i nomi. Però vedi, ho detto, guarda, 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 guarda. Vabbè, ragazzi, a parti scherzi. Allora, oggi parliamo di un video a Sonitis, ok? Un regista, l'ho detto, di cui se ne parla sempre poco rispetto a moltissimi altri. Secondo me è anche molto sottovalutato, lo dico in maniera proprio, adesso voi, insomma, Francesco, Alice, Fabrizio, mi direte se siete d'accordo su questa cosa. E invece penso che sei un regista che abbia dato un bel po' al cinema di genere. E poi, insomma, abbiamo la passione, oltre che per chi sei, di cui tra poco parleremo, per Tentacoli, di cui pochi giorni fa il nostro Francescone ha dato, se non ero, sei vespertilio, vero? Sei vespertilio al lapidario. Bene, però prima parliamo. Ringrazio, ringrazio, quando non guardo subito, non commento subito il lapidario, però sono contenta, perché grazie a questo metodo sono riuscita a recuperare le collaborazioni, mi sono spuntate dal nulla, tutte le vecchie collaborazioni le ho trovate, fantastiche. Bene, oggi, una magia, è vero? Allora, passiamo al primo film, andiamo anche oggi, come sempre, in ordine cronologico, era il 1974, un anno dopo L'Esorcista, e arriva I6, che ancora oggi, per quanto mi riguarda, lo ritengo dopo L'Esorcista, uno dei film più eccezionali sull'esorcismo. L'Ego, ovviamente, la storia è fortemente debitrice a quella dell'Esorcista dell'anno prima, di cui può essere considerato un epigono italiano. Francesco, innanzitutto, però, la prima domanda che ti faccio è, è vero o no che Ovidias Onitis è un regista sottovalutato, o mettiamo, poco considerato, o essere un po' più considerato? E poi, soprattutto, dimmi, dimmi. Secondo me è sottovalutato per un motivo, perché in realtà lui è più produttore che regista. Poi ha fatto, appunto, diversi film da regista, che sono entrati nella storia dei Galt, buona parte, però, appunto, non ha quell'impronta, diciamo, autoriale che riconosci in un Fulci o in un Dario Argento, però, comunque, fa dei film buoni e ottimi a Onitis, sia produttivamente parlando che registicamente parlando, con alti e bassi, come tutti quanti. Quindi, sicuramente è poco considerato per questo, perché è considerato più un produttore che un regista vero e proprio. Ecco, sì, facciamo un giro così. Alice, secondo te? Io penso che è vero che non è un regista di cui si sente tantissimo parlare o che viene tanto citato, però a me sembra che negli ultimi anni abbia avuto anche una piccola rivalutazione, perché io ricordo che Tentacoli, per esempio, è sempre stato considerato un film, quasi un b-movie, un film, addirittura leggevo anche delle vecchie recensioni dove lo definivano quasi trash. Invece, negli ultimi anni, ho scoperto che ha avuto una notevole rivalutazione, soprattutto quando si parla di film, diciamo, etichettato come catastrofico, no? Quindi nel genere. E devo dire che, secondo me, pur non essendo un regista così citato, però io penso che anche tra i fan, tra gli amanti del genere, abbia avuto una sua rimonta. Intanto, Alice, saluto Alessio di Ore di Orrore Channel, visto che stiamo parlando di Ovidio Assonitis, Alessio, di cui Ore Film e la Green Video hanno organizzato questo bellissimo evento proprio qualche giorno fa, che ha avuto come protagonista, appunto, Ovidio Assonitis, che sta preparando, tra l'altro, un nuovo film. Vai, Alice. E come dicevo, anche Piranha Paura, per esempio, è un film che io da qualche anno vedo spesso rivalutato, comunque che viene citato quando si parla di film a tema squali, di, non so, di quel genere lì, con gli animali che sono, diciamo, assassini. Mentre Chi Sei, lo dico a male in cuore, noto che è un film, invece, che faccio... Tra poco ne parleremo, Alice, tra poco ne parleremo di Chi Sei. Facciamo un giro veloce su Ovidio Assonitis. Fabrizio. Sì, sono d'accordo con Francesco, cioè, perfettamente, nel senso che lui è più, probabilmente, produttore che regista. Però, come regista, quando uno va a vedere i film, chiaramente i film sono assolutamente, a mio parere, ben fatti e oltre in modo godibili, per cui, insomma, è giusto che venga rivalutato. Però, sì, sono d'accordo con quello detto Francesco, le motivazioni per cui è sottovalutato sono quelle. Bene, allora, passiamo a Chi Sei. Tra l'altro, sto leggendo, perché poi non è che uno può riguardarsi tutto, sapevo che fu un grande successo, tra l'altro, il film, però non così. Cioè, non tanto in Italia, ma negli Stati Uniti, il film riscosse un notevole successo di pubblico incassando, pensate, 15 milioni di dollari di allora, a fronte di un budget di appena 700 milioni di lire, ovvero 350 mila dollari. Quindi, questo per farvi capire la differenza un attimino. Esatto. Del 74, appunto, e tra l'altro voglio ricordare che tra i grandi attori, lo splendido e grande Gabriele Lavia, di cui tra l'altro non ha parlato nell'evento a Sonidis, perché, per come è stato scelto, Richard Johnson, Nino Sigurini, Juliet Mills e tantissimi altri. Allora, i critici di questo film, quelli negativi, chiaramente, dicono che chi sei una fotocopia dell'esorcista. Invece altri hanno detto che è l'esorcista italiano, quelli che fanno una critica positiva. Tu, da che parte sei, Francesco, e perché? Ma, io la penso più che l'esorcista italiano, però più che l'esorcista italiano direi che è una fusione tra l'esorcista e Rosemary's Baby, come è il film. L'anticristo è più l'esorcista italiano di Alberto De Martino, mentre questo lo trovo più quasi un Rosemary's Baby italiano con elementi dell'esorcista, perché c'è il discorso dell'attesa del figlio, ha avuto, appunto, con la relazione precedente, un po' la storia di Rosemary's Baby, praticamente, rispolverata. È un film, secondo me, discreto, non mi fa impazzire, ma come non mi fa impazzire, è tutto il filone demoniaco ad esclusione dell'esorcista. Però, insieme all'anticristo e al rito con Anthony Hopkins, lo considero uno dei migliori film sull'argomento. E, tra l'altro, ricordiamo che in quel periodo c'erano stati altri epigoni dell'esorcista, tra cui lo spagnolo L'Eretica, di Amando De Ossorio, l'ossessa di Mario Cariazzo, che era italiano anche quello, e Un urlo nelle tenebre di Elo Pannaciò, conosciuto non a caso anche con il titolo Esorcista numero due. Chi sei, diciamo, di tutti questi esempi è uno dei migliori, in assoluto, insieme all'esorcista e insieme all'anticristo è il migliore, sicuramente. Francesco, tre qualità che ti fanno dire che chi sei è il migliore dei film citati. Che cosa aveva di più? Beh, ottima fotografia, capacità comunque di generare spavento, come un po' l'ha fatto anche l'esorcista, e comunque una confezione generale all'altezza, come tutti i film di Astonista, all'altezza proprio del film americano. Tant'è vero, ha avuto un successo in America, quindi significa come il prodotto riusciva a rispecchiare le grosse produzioni americane. Fabrizio, invece ti lascio per ultimo, perché so che hai un giudizio un po' diverso rispetto agli altri. Fabrizio. Sì, a me chi sei è piaciuto parecchio, e devo dire che secondo me è un buon film, perché fonde vari elementi. C'è un po' di Fausto, un po' di Rosemary's Baby, assolutamente, con la nascita del bambino, e diciamo l'esorcista per varie scene che richiamano la pellicola di Friedkin. Però qui c'è, diciamo, secondo me è molto, la trama è molto interessante, perché qui c'è proprio il gioco perverso del diavolo, con l'ingagno che è alla base di tutto, che si differenzia, secondo me, sia dall'esorcista che da Rosemary's Baby. È un film che riesce a far paura, assolutamente, pur se tante scene sono girate, per esempio, in esterna e in pieno sole, praticamente. Sicuramente, però quell'inquietudine te la porti dietro. Fantastica la scena in cui i bambini sono in camera di notte che giocano e tutti i loro giocattoli si animano, e poi la bimba va a cercare aiuto della madre, insomma, lì è proprio l'esorcista con la testa che si gira praticamente al contrario. E' un film, ripeto, che secondo me funziona, anche le musiche sono di buon livello e a volte stemperano un po' quell'atmosfera così tesa e così, che dovrebbe essere sempre cupa, in realtà, invece, ma senza mai, come dire, tradire quel senso di spavento e di inquietudine che ci portiamo dietro. Per me, chi sei, è un ottimo film sul, diciamo, per quanto riguarda, ecco, anche i film citati da Francesco, assolutamente, è un ottimo esempio di film sul filone demoniaco, ecco, che in genere molto spesso possono deludere. Tra l'altro, musica di Franco Michalizzi, famosissimo per, lo chiamavano Trinità, le musiche lo chiamavano Trinità, con Bud Spencer, con Terenzile, tra le altre cose. Alice, tu invece questo film non lo trovi così? Così? Io, chi sei, sì, non l'ho mai trovato, diciamo, una scopiazzatura dell'esorcista. E io, ho sempre detto, magari, ora dirò una bestemmia, ma io l'ho preferito anche all'esorcista. Ma dopo la prima visione, perché l'esorcista è un bellissimo film, è il padre, se non altro, del genere, anche se fino ai anni 60 era uscito Il demonio di Brunello Rondi, che comunque anticipava il genere. Però, devo dire che chi sei, ora intanto, mi ha fatto veramente, veramente paura. Infatti, io non l'ho più riguardato, perché mi impietavano, in primis i bambini, perché pur non essendo dei bambini alla, non so, alla broad, per intenderci, sono bambini, diciamo, normalissimi, mi trasmettono inquietudine in questa pellicola. Mi ha inquietato tantissimo la protagonista quando inizia a vomitare con la bava verde, quando inizia a parlare con la voce da uomo, che se non ricordo male era la voce di Sergio Graziani, mi sembra di ricordare che era un famosissimo doppiatore, e quindi ci sono state veramente tantissime scende che rispetto all'esorcista che, per carità, il film fondamentale, non si discute, mi hanno colpito di più. Inoltre, io, più che scopriare l'esorcista, io semplicemente lo trovo semplicemente un film che si è ispirato all'esorcista, ma non un film che ogni scena ti diceva vabbè, ma l'ha già fatto l'esorcista, io l'ho sempre visto così. Poi, è vero anche come diceva Francesco, che c'è anche un po' di Rosemary's Baby, il fatto della gravidanza, del figlio che comunque era frutto di, diciamo, un fatto con il diavolo, se non ricordo male, con l'ex marito, mi pare, della protagonista, o l'ex fidanzato, ora lo ricordo molto bene, però, io lo trovo, ecco, che ci siano delle ispirazioni innegabili, io invece lo trovo un film personale e io lo consiglio sempre quando si parla di possessioni perché, come dicevo prima, quando lo nomino vedo molta gente che mi dice ma che film è? Io non l'ho mai sentito, quindi tutte le volte io dico andate a recuperarvi di questo film italiano che secondo me non ha nulla da invidiare con altri film del genere che magari sono stati plurinominati per esempio come l'esorcismo di Emilio Rose che a me non mi ha mai fatto impattire e andate a recuperarvi questo piccolo gioiello che secondo me merita. Francesco, domanda proprio quanto ha dato diciamoci la verità quanto ha dato l'interpretazione di Lavia in questo film? L'interpretazione di Lavia bene o male dà sempre tanto in tutti i film dove lo metti lo metti insomma sia sulle cose più seriose che fa lui sia sul cinema di genere quando lo vediamo qui in profondo rosso ha comunque anche una faccia secondo me molto da horror poi appunto è un attore comunque molto impegnato ha fatto tante altre cose però è uno che secondo me per l'horror ha una faccia che funzionava grande tra l'altro io non lo so in non ho sonno dimmi dimmi Francesco funzionava anche in non ho sonno secondo me sì sì lui è un attore eclettico polietrico come praticamente quasi la maggior parte di attori che vengono dal teatro quindi vengono dal palcoscenico dove c'è la gente vera basta vedere Glauco Mauri ad esempio un altro grandissimo attore che si è prestato per Profondo Rosso e per altre pedicole ma voglio dire Fabrizio tu che cosa pensi quanto ha dato quest'attore in questo film ma abbiamo visto anche insomma in tantissimi altri film di Dario dove si è speso moltissimo sì ha dato molto perché comunque anche se era tanto giovane comunque sia è riuscito a dare un come dire un'impronta molto molto forte al film in quanto a mio parere anche questo è un film ambientato e girato in America è riuscito anche a dare a mio avviso una sorta di internazionalità al film stesso anche con la sua interpretazione e con la sua figura anche nell'insieme ha funzionato benissimo per cui non ho nient'altro da aggiungere Alice vuoi dire qualcosa su Gabriele Lavia? ti piace come attore? qual è la tua interpretazione nel mondo horror che ti è piaciuto o nel mondo thriller che ti è piaciuto di più? è un bravissimo attore ha un viso secondo me molto impietante e anche se qua non fa diciamo una parte dove fa magari il cattivo comunque che ha a che fare perché anche il profondo rosso comunque è un personaggio un po' ambiguo perché fino alla fine sembra quasi che possa anche essere lui l'assassino mentre qua diciamo che è un po' vittima di tutto quello che sta accadendo io lo voglio citare in un film che io adoro che sento sempre poco nominare che è Giro Limoni il mostro di Roma da Damiano Damiani che è un bellissimo film dove interpreta la parte di quello che è il vero assassino che viene colpevolizzato ma non c'entra nulla il vero assassino di lui e mi ricorderò sempre dopo che lui io le ho una bambina si siede a tavola tranquillamente e è sghignata quella scelta cioè quell'espressione mi ha proprio messo ansia quindi è veramente un attore che è bravo è molto bravo Sì Scusate voglio aggiungere Zeder che non abbiamo nominato e poi volevo dire un paio di cose non dimentichiamoci che chi sei in realtà è diretto da Assonitis Roberto Dettore Piazzoli che è il direttore della fotografia una coreggia e sull'aspetto della testa che si gira c'è questo aspetto curioso che l'hanno ripresa tutti dall'esorcista questa cosa è diventata una cosa spettacolare cinematografemente parlando però non ha senso in tutti i film ha senso solo sull'esorcista perché nell'esorcista Reagan gira la testa per rievocare la morte del regista che lavorava con la madre il diavolo ucciso spezzandogli il collo credo che nessuno l'abbia capita questa cosa all'epoca quindi l'hanno ripresa tutti soltanto come effetto sensazionalistico al fine di rappresentare un indemoniato però in tutti questi film da chi sei in poi non ha assolutamente senso è soltanto un effetto fino a se stesso o comunque più di non avere senso gli si dà un altro significato più che altro un effetto semplicemente demoniaco e basta non quel per fare infezione e far paura con la drama io dicevo infatti che ho preferito chi sei ma che chiaramente l'esorcista secondo me è intoccabile tutto quello che c'è sul filone demoniaco che è venuto dopo quando hai visto l'esorcista secondo me li hai visti tutti è proprio il più completo questo qua però devo dire che mi ha fatto molta più paura proprio mi ha mi ha inquietato cioè l'esorcista lo vedo anche un film anche drammatico perché provi anche pena per questa bambina per la mamma mentre questo è proprio un film che mi ha fatto più volte saltare dalla sedia proprio non ho provato empatia diciamo forse per l'avia ma dopo per il resto era tutto un insieme di cose che mi facevano veramente paura dimmi Fabrizio sì comunque infatti nei film diciamo sugli esorcismi e il filone demoniaco la testa che si gira non ha appunto non ha senso anche perché poi diciamo è sempre come dire una ripresa da quel film che come dice giustamente Francesco lì aveva un significato è stato quindi malinterpretato e rende tutti gli altri film sul filone demoniaco abbastanza inverosimili per quanto concerne l'atto dell'esorcismo stesso anche per questo secondo me il rito è un film tra virgolette molto più realistico molto più interessante sotto tanti punti di vista è un film che viene poco poco citato tra l'altro possiamo tranquillamente dire che l'esorcista sta come cannibal holocaust cioè tutti gli altri film di genere di quel sottogenere sono derivati praticamente questo è un po' il hai visto quello hai visto tutto insomma perché io poi per esempio anche altri film sul cannibalismo che ho visto non ho visto più nessuna novità anzi film un po' regressi proprio rispetto a quello che poi ha rappresentato cannibal holocaust sinceramente quindi ciao Alex adesso parliamo di un film che io e Francesco odiamo a morte tentacoli è proprio una cosa allora tentacoli è arrivato se non erro che è tre anni dopo chi sei e possiamo dire anche in questo caso che Ovidias Sonitis gioca sul rincorersi con i film no prima l'esorcista in questo caso lo squalo ne devo dire se è sempre un regista particolare e comunque ammiro perché di solito si fanno questi film qualche settimana dopo qualche mese dopo qualche annetto dopo quello che è diciamo il film fulcro che in questo caso sono stati l'esorcista e lo squalo e si fanno male però le copie le fotocopie invece a Sonitis si è riuscita a dare sempre una sua identità una sua forma ai suoi film e su questo bisogna dargli in atto è inutile il sacero fa girare intorno cioè prende un'idea che in quel momento è fortemente a livello di pubblico di spettatori forte come è successo con l'esorcista dello squalo carpisce tutto e poi ci mette il suo e devo dire che Tentacoli è un altro grande secondo me esempio Francesco Tentacoli è il più grande esempio non capisco ancora perché negli anni 90 veniva trasmesso per il ciclo i bruttissimi di Odeon è una cosa che mi ti ricordi ma il paradosso è che mi sa che invece dopo lo trasmettevano per i bellissimi di Rete 4 se non ricordo male siccome no certo poi è una programmazione di Rete 4 dove viene riproposto spesso se non ricordo male per un periodo facevano per i bellissimi quindi c'era questo paradosso che su Odeon era per i bruttissimi e su Rete 4 per i bellissimi io lo trovo un film eccezionale l'altro ieri ho avuto modo di dirlo anche a lui all'incontro che ho detto il film che ho visto di più in vita mia è il più bel derivato dello squalo ha un'identità sua non è una scopiazzatura assolutamente dello squalo anzi è un film completamente differente anche se ne riprende in parte la struttura però a differenza del film di Spielberg che è molto autoriale questo è molto più di genere è più movimentato ci sono più morti ogni situazione di morte è studiata a dovere quando vedi di più quando vedi di meno ha una colonna sonora di Stelvio Cipriani che è eccezionale perché funziona nei momenti di tensione ma poi c'è anche tanta poesia dentro ci sono dei momenti di un romanticismo incredibile è un film che mi ha ricordato sempre la malinconia dell'estate non so perché c'è quella sequenza in cui c'è Bob Kings al porto che aspetta la moglie di notte che in realtà è morta uccisa dalla piovra è bellissima c'è tutto quel lento piano sequenza sulla gente al porto che finisce poi su di lui con sopra la musica di Cipriani molto triste trovo che sia un film ma poi c'è la sequenza della regata con i rallenti fermo immagini le risate no quei fermi immagini sulle risate mentre da nostra parte sta accadendo una tragedia il contrasto della gente si diverte poi comunque era difficile fare un film del genere mettendo insieme tre glorie hollywoodiane come Shelley Winters John Huston con Enzo Bottesini che era il campione di Ristiatutto mi sembra e quindi non era anche un attore però faceva parte del sub quindi era un po' se stesso Bob Kings che era un caratterista da B-movie anche se aveva fatto American Graffiti di Giorgio Lucas e poi i nostri Franco Diogene Delia Boccardo insomma poi c'era Mark Fiorini anche che è il tizio che muore con Diogene quello di cui si vedono le gambe di argento trascinate insomma secondo me veramente eccezionale bellissimo che andrebbe fatto vedere nelle scuole di cinema perché secondo me per l'uso della musica e del montaggio è una grandissima scuola con i suoi debiti a Hitchcock e a Sam Peckinpah però sfruttati veramente alla grande tra l'altro veramente grande Cipriani penso che ha dato una delle sue migliori con grandi musiciste ma penso che qua abbia dato veramente quasi il meglio di sé il bello quando dicevi prima c'era il nostro cinema di genere cioè gli americani facevano un successo gli italiani cercavano di rifarlo è una cosa che adesso non fanno più adesso il cinema italiano è tutto quanto o le solite cose o remake dichiarati anche se lo scrivono sempre meno di commedie spagnole di commedie argentine di commedie brasiliane neanche di rifanno più storie che si ispirano che cercano di cavalcare e poi comunque prendono successi di quei paesi nel senso un film che è successo in Brasile e loro lo rifanno ma che senso ha questo proprio per me un po' per nascondere il fatto che dicono stanno riprendendo le cose invece di prendere che ne so il grande successo americano nel momento e di farlo fanno questa cosa è brutta secondo me era molto meglio prima quando appunto c'erano i nostri che cercavano di rifare quei film con risultati più e meno apprezzabili però diciamo che spesso ci siamo riusciti bene intanto saluto Giuseppe e tutti quelli che ci stanno salutando e poi Alex Tentacoli ispirando storie vere lo dico per il fattaccio recente del cagnolino ucciso alla piovra scusate il black humor sì è vero avevo riportato a Marcus ma riportato la notizia che poi quando la realtà supera la fantasia Alice io devo dire che avevo già accennato qualcosa all'inizio della diretta Tentacoli è un film che è sempre stato considerato un film uno sculpt un trash e ultimamente ha avuto una rivalutazione perché intanto in televisione ogni tanto lo danno su rete 4 al pomeriggio ogni tanto lo becco sì ogni tanto lo becco in tarda mattinata qualche volta qualche volta come si sa dove avete fatto su questa ora di pranzo l'ho beccata su Iris quindi siamo passate dai bruttissimi nei bruttissimi di Odeon adesso lo fanno come se fosse quasi un film che a qualsiasi orario guardatelo perché merita come un qualsiasi film di John Wayne ormai esatto esatto e tra l'altro sapevate che John Wayne doveva fare Tentacoli? certo fu contattato per la parte però io per questioni di salute l'avanzato non l'ha più chiamata coraggio come dice dico oltre alla colonna sonora che anche a me piace tantissimo e la trovo veramente azzeccata un film che io ricordo più che altro con affetto perché l'ho proprio visto da piccola su rete 4 perché mi ispirava il titolo il titolo buttato di proprio Tentacoli mi ispirava e lo ricordo anche un film molto cattivo dove il regista ha anche un fatto perché se pensiamo alla scena iniziale della carottina col bambino che misteriosamente scompare dal nulla è un film veramente cattivo dove magari in quegli anni non si faceva o si faceva poco una cosa così e poi c'è un bel messaggio quando si facevano i film secondo me di critica ma fatti in modo schietto in modo personale senza le cose secondo me studiate a tavolino e poi il cast Sherry Winters che è un'attrice che secondo me è un po' come Katie Bates ovunque la metti ti fa anche nel film più brutto che possa esistere lei ti fa la parte fatta bene e quindi diciamo che nel suo genere per me è un piccolo cult Fabrizio tra l'altro stavo appunto parlando con facendo vedere zero sangue la scomparsa del carrozzino la morte ecco la morte di uno dei due bambini nel gran finale della regata però ti inquietava ti metteva a favore il fatto che era anche lo possiamo dire politicamente scorretta sono i dismorivani i bambini sì ma infatti assolutamente poi lo vedremo anche in un altro film poi ne parleremo più avanti e in questo film a mio parere riuscitissimo la tensione che generano le musiche è strepitosa quando diciamo precede l'attacco della 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 piovra la regata con questa tra misto tra la soggettiva della piovra tra il vedere l'occhio un proprio un angolo dell'occhio che avanza verso le barche e questo montaggio che si alterna con diciamo le battute che devono essere esilaranti del comico lì sul a bordo diciamo sulla 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 spiaggia dove era e poi c'è lì Winters che nel frattempo però ti dà quella carica tensiva perché è in contatto con il walkie talkie con con il figlio che fa appunto che era in barca a fare la regata e e poi l'immagine di fine regata con tutte le barche sparse probabilmente capovolte ma ci sono scene come quella all'attacco notturno dove muore la moglie di di glison che è strepitosa secondo me perché lì vedi all'improvviso questa questa onda che si che si alza e viene viene incontro come allo spettatore ti dà quel senso di angoscia che è veramente eccezionale più c'è anche legata è vero la malinconia del diciamo della di quello che è la fine di quella di quella sequenza quindi mischia varie come si dice varie emozioni e poi ricordo anche quel quel giocare della piovra con mostrando la persona morta tirandola fuori dall'acqua al contrario esce fuori con i piedi praticamente quello è anche un'ora proprio orrorifica come come situazione è un film che a mio avviso funziona in tutto e per tutto con un gran cast e secondo me è veramente come dire eccezionale il fatto che funzioni perché non è affatto facile fare un film chiaramente ispirato allo squalo che ha avuto un successo cosmico e fare un film a mio avviso che funziona in tutto e per tutto è stato un molto coraggioso anche è stato bravissimo perché ecco i lì rallenti alla pech è veramente fantastico sono tante piccole cose che secondo me fanno di questo film un cult assoluto perché hai chiamato le orche summer e winter l'hai catturata in quelle stagioni lui risponde no perché ho conosciuto Vicky in inverno e l'ho sposata in estate una delle brasi mitiche del film che romantico è vero sei romanticone Francesco e comunque la magnifica donna sonora eccola eh sì che io la volevo mettere volevo mettere un accenno ma penso che ci oggi come oggi ci butto con la diretta ti immagino quindi quindi per carità per carità per carità e tra l'altro voglio ricordare che me ad S.A.E. oggi hanno avuto un incontro che è miseramente fallito tanto per poi ecco dopo tanto detto ciò è calla allora volevo però leggervi che il film fu un successo nel mondo riuscendo anche a regovernare i costi di produzione secondo a Sonitis il film andò bene quasi ovunque specie negli States in Italia il film arrivò alla 47esima posizione della classifica dei maggiori incassi della stagione 76-77 ora preparatevi ci facciamo quattro risate sui giudizi della critica partiamo proprio da Francesco Lomuscio mi piacerebbe un giorno leggere Francesco dieci anni fa non la pensavi così sai quelle cose la penso così dall'82 quando l'ho visto la prima volta praticamente però mi piacerebbe un giorno dire a cambiare Francesco guarda che cosa ti ho ritrovato e ti mando un video di dieci anni a me a me è successo un fenomena perché la prima volta che ho visto il fenomena l'ho detestato adesso è diventato uno dei miei preferiti può succedere però può succedere mi è piaciuto la prima volta che l'ho visto ancora non mi piace capirai ma come hai detto Jennifer Connell stupenda magnifica poi difficilmente quando parlo di un film dico dell'attrice figa dico ah che bello è un film horror al massimo è una brava l'attrice ma non dico mai è una figa tanto se ce l'hanno messa perché è una figa Alex intanto ci dice tra questo lo squale pirania si aveva paura dell'acqua sono storie che potrebbero essere vere e romanticone ti chiama Alex e romanticone allora parliamo della critica cominciamo allora il Morandini ha segnato al film una stella l'ha definito un increscioso sottoprodotto dello squalo il film è una dispendiosa bagianata in Technivision e Technicolor e ha continuato dicendo che la storia fa acqua come un colabrodo e diffama il cinema avventuroso ragazzi ma eh ma se fa acqua va bene tentacoli ma che se è concentrato l'obiettivo ma che se l'ha magnato veleno questo quando ha fatto la veleno passiamo a Rudy Salvagnini che nel suo dizionario ha segnato al film una stella e mezza ha apprezzato la parte iniziale pensa sempre se non l'aveva apprezzata visto il voto citando anche una somiglianza con Hitchcock anche se ha continuato definendo il resto del film banale e ridicolo Bertarelli ha inserito il film nel suo libro 1500 eh film da evitare pensa un po' addirittura e gli ha dato come voto 4 immagino su 10 Francesco Minigni nella recensione nel magazine italiano tv l'ha definito una pessima imitazione italiana dello squalo con qualche tentacolo in più e molta tensione in meno eh segnalazioni cinematografiche ha criticato soprattutto la sceneggiatura e altri esperti come le motivazioni ecologiche della vicenda il sito ha segnato al film una volta un voto insufficiente dando i due stelle su cinque e ha descritto i risvolti ecologisti e i personaggi ingenui e schematici mentre ha terminato dicendo efficaci invece le scene con la piovra anche negli Stati Uniti i film vengono accolti in maniera negativa non stato invece il grande successo di pubblico nel sito di recensioni della rotta in tentacoli ha la valutazione dello 0% e questo indica che nessun critico ha dato una recensione positiva Donald Miller nel quotidiano Pittsburgh Post Gazette ha dato al film un giudizio incoraggiante soprattutto per gli effetti speciali e per alcune scene del film nella recensione del giornale The Morning Record e il giornale il caso viene descritto come sprecato e il film che non riesce ad essere spaventoso e anche Jim Hurd anche lui giornalista di Davening Independent ha dato un giudizio negativo al film mentre John Dugoli del The Daily News ha dato un giudizio più positivo rispetto alle altre recensioni mentre il sito movie ha segnato al film una stella su cinque definendolo sciocco questa è la parola Francesco che cos'è da dire? un momento perché sta sponendo non mi esprimiamo perché poi sai come funziona c'è un famosissimo che ti dico cinematografico che fa un dizionario di cinema dove nelle prime edizioni ad alcuni dei nostri film dava una o due stelle dopo che Tarantino ha detto che sono tutti maestri sono aumentate queste stelle non si sa com'è sulle edizioni successive del dizionario quindi di che vogliamo parlare? no tra l'altro tra l'altro c'è anche c'è anche la questione di quella famosa scritta sapete adesso non so se lo fanno ancora perché non lo compro più tipo telepiù no era proprio di Bustolessio Canzoni che c'era una breve descrizione del film ogni volta no? un cast di serie A per un film di serie B e ogni volta che mandavano c'è stata tentacoli c'è stata sempre la stessa frase ne la cambiavano mai ma rimaneva sempre questa frase qua ti ricordi Francesco l'abbiamo parlato una volta quindi cioè sembra proprio una cosa scritta come se fosse buono non lo so a me mi ha sempre dato molto fastidio questa cosa qua voi che ne pensate? io come ho detto l'altro ieri a Sonidis io ho detto era difficile fare un film con un cast che mischiava tre glorie americane e tutti i caratteristi italiani e lui c'è riuscito quindi non trovo affatto che sia sprecato anzi c'è riuscito proprio bene a metterli insieme Fabrizio? sì anche perché è mica facile voglio dire una cosa del genere devi essere un regista capace per dirigere e gestire questi grandi attori e insieme giustamente Francesco anche ad attori che insomma non sono neanche lontanamente di quel calibro per quanto riguarda la critica penso che c'è un'omologazione proprio è evidente nel senso che basti vedere come era facile sparare su questo film senza invece soffermarsi neanche minimamente a come posso dire a osservarne i particolari bastava omologarsi per così in quel periodo poi come dice Francesco guarda caso aumentano le stelle quando poi cambiano cambiano le cose quindi la critica a mio avviso diciamo che in certi casi non fa testo ricordiamo come distruggivano D'Argento come hanno distrutto Alfredici con Canche insomma non è che tanto non è che non è che cambia il vento hanno distrutto il sorpasso di Norisi che io considero il più grande film italiano della storia del cinema non capisco come hanno fatto il film assolutamente pazzesco l'unica notazione di Tentacoli purtroppo è l'utilizzo di Arrifonda ma credo ci fosse anche lì un problema che lui era malato forse stava malato Arrifonda le scene che hanno girato erano tutte nella sua casa vera infatti poi il personaggio sparisce purtroppo questa forzatura è dovuta a quel motivo che non poteva girare più di tanto perché non ha quasi senso il fatto che tutto si scatena per corpa sua perché era lui che poi finanziava tutti i lavori del tunnel sottomarino che ha scatenato la piove quindi sarebbe dovuto morire lui diciamo facendo una morte peggiore forse invece in realtà poi sparisce del tutto evidentemente proprio perché appunto siccome stava male hanno girato quelle poche scene nella sua casa e dopo hanno dovuto lasciar perdere peccato perché è una cosa che ti lascia un po' la mano Alice insomma due battute su questa critica io mi ricordo ancora quando hanno chiamato se sono sbagliati hanno scritto Inferno di Mario Argento quindi penso ti ricordi sì sì è una cosa fantastica si possa riassumere si possa riassumere tutto in questo Mario Argento allora passiamo al terzo film che pochi hanno visto io l'ho visto l'altro ieri in no ieri ieri proprio l'ho visto credo su youtube lo potete trovare gratis ecco there was a little girl meglio conosciuto come Madhouse è un film dell'81 scritto prodotto in diretto appunto da Ovidiastonitis rientra nei film cosiddetti video nasti tra poco Francesco ci farà una descrizione vediamo che dietro ha già tutto carta e penna per farci capire che cos'è un video nasti ossia banditi in alcuni paesi per via dei contenuti espliciti allora hai visto questo film Francesco te lo ricordavi dicci un po' qualcosa sì da non confondere tra l'altro con Madhouse che è un altro film più recente è uscito in DVD invece questo non è più uscito beh è un discreto slasher dell'81 non è nei livelli di Kissane ai livelli di tentacoli però comunque è un film che si lascia guardare è uscito appunto nel periodo dell'esplosione dello slasher perché c'erano stati tre anni prima Halloween l'anno prima venerdì 13 nello stesso anno Halloween 2 quindi andavano di modo agli assassini seriali se vogliamo si vede nel film la propensione di Astonitis verso il filone degli animali assassini perché anche se sono slasher quasi tutti gli omicidi vengono compiuti da un cane quindi ha un po' la massa diciamo più per gli animali però è un film che devo dire ha una sua atmosfera lucubre che funziona molto cubo credo sia un po' debitore nei confronti di non si servisse a un paperino per un certo aspetto non è male è un film un po' lento forse però comunque un film che si lascia secondo me guardare non capisco perché non sia uscito in Italia e poi riprende un pochino anche diciamo The Ranged non aprite quella porta nella parte finale dei cadaveri attorno al tavolo ci sono un po' insomma di influenze che vengono da diverso cinema degli anni 70 tra l'altro ho amato le musiche di Rizzo Ortlani che io però amo a prescindere quindi vabbè diciamo che è un capitolo a parte e hai detto tra l'altro non si servisse un paperino Fabrizio io e Fabrizio abbiamo aperto gli occhi perché sarà la prossima diretta della finestra sul thriller sarà tutta dedicata a non si servisse un paperino un altro mitico film secondo me è il vero capolavoro di Pulci altro che trilogia però è un mio parere personale poi questo è per quanto vi riguarda Alice allora è un film che nemmeno io conoscevo anzi se qualcuno fosse interessato magari non l'avesse visto su Youtube si trova avanti con i sottotitoli in italiano quindi anche semplifica molto di più la visione ma diciamo che sono in parte d'accordo con Francesco nel senso che ha una trama interessante è uno slash discreto forse rispetto agli altri film l'ho trovato un po' lento e forse poco personale nel senso che prende un po' qua un po' secondo me anche come cliché una delle protagoniste un po' stupide che gli dicono non fare così e puntualmente fa così e più per cui ammazzano pure il gatto proprio della serie non devi fare così lei scatena un casino inimmaginabile e poi forse l'ho trovato anche un po' prevedibile perché avevo già un po' intuito dove si andava a parare ma forse perché proprio grazie non si andava un po' un po' capito che quando nei film horror compaiono certe figure diciamo con le vestite di nero c'è poco da fare sono cattivi si andava un po' paperino paura della città dei morti viventi quindi bisogna ammazzarvi subito però si ammazzano subito con i suoi film e quindi però ci sono delle buone intuizioni comunque il rottweiler che è un impettante quindi insomma qualcosa di buono c'è Fabrizio? Sì è un film vero lento però a mio avviso di una buona tensione nel senso è ben gestita e ben costruita la tensione a mio avviso grazie alle musiche grazie a un uso di alcune inquadrature anche all'inizio di belle soggettive dell'omicida nelle stanze buie dove praticamente poi verrà ucciso il il secondo la seconda uccisione se non erro la prima era quella che il cane aggredisce il poliziotto fuori dall'ospedale sì mi è piaciuto molto sì il cane insomma l'aggressione del cane è molto efficace anche nella vittima nell'amica della 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 protagonista viene incisa anch'essa dal cane anche lì ti dà un senso proprio dello sbranamento la scena finale è vero ricorda non aprire quella porta assolutamente godibile però a mio avviso il film dove diciamo le scene omicidiarie sono abbastanza buone ma è la tensione secondo me quella la caratteristica peculiare del film perché è tutto molto diluito per cui si gioca molto sulla tensione però tutto sommato pure se magari non è originalissimo come film però a mio avviso funziona bene a me è piaciuto adesso parliamo un attimo prima di sentire le vostre impressioni stiamo per parlare di Piranha Paura un film che ha definitivamente proprio messo in risalto l'amicizia da James Cameron guardatevi i contenuti speciali del DVD scusa per me hanno trionfato più del film scusate devo dire un'amicizia che si è prolungata del tempo con i vaffanculo e lo scherzo gli ha detto sarebbe un grande regista ma io risentro un uomo di me io lo adoro voi a casa mia studi poi insomma dei contenuti speciali guardate i contenuti speciali perché sono da morire ho il DVD a casa e me lo conservo come una reliquia Piranha Paura che poi è stato tra l'altro distribuito a livello internazionale con Piranha Paura di Spawning tra l'altro allora Assonis inizialmente doveva dirigere da solo la pedicola poi a causa di questa clausola con la Warner Bros venne deciso appunto di assoldare un cineasta americano praticamente sconosciuto il produttore si consultò con il grandissimo Roger Corman il quale consiglia al finanziatore di far esordire James Cameron per l'appunto all'epoca suo effettista di fiducia e stando alle parole del futuro premio Oscar il sette fu molto difficile non solo per lui il sette fu molto difficile in particolare l'autore del Titanic e benumerosi scontri appunto con Ovidio dopo pochi giorni Cameron venne recensato il lungometraggio fu portato a termine dal produttore egiziano alcune cose da dire effetti speciali del grande Giannetto montata dallo stesso Cameron in seguito tutte le edizioni sul mercato furono omologate lo standard cinematografico voluto da Sonitis che chiaramente andava contro la critica generalmente recensito negativamente purtroppo il film la rivista film tv considera il lungometraggio anonimo e godibile solo per i fan del genere nello stesso avviso anche Morando Morandini che questo se faceva Develeino Morandini che giudica l'esordio di Cameron una regia efficace ma con una trama insensata e ridicola vabbè allora passiamo vogliamo parlare dell'amicizia tra questi due signori non direi direi di parlare di Pirania Paura dico in realtà io sono sostanzialmente d'accordo con la critica perché i film di cui abbiamo parlato stasera è l'unico che non mi piace proprio non mi ha mai entusiasmato l'unica cosa buona appunto sono gli effetti di Giannetto De Rossi la trovata dei Pirania che volano era se vogliamo anche demenziale secondo me insomma era un po' ridicola però è un film non mi ha mai poi addirittura conoscevo uno anni fa che mi diceva io preferisco Pirania Paura a Tentacoli ma assolutamente proprio Paragoni è un film è molto americano come film sembra che è un classico film di movie americano fatto però comunque con i mezzi devo dire non mi ha mai entusiasmato non me lo ricordo neanche per niente per scene particolari per scene di morte pure era insomma un classico film di animali assassini come sempre nel 2000 c'era molta meno identità rispetto a Tentacoli secondo me con il film il tocco di camera mi ha sentito un pochino nelle inquadrature subacque lui è fissato con l'acqua tanto è vero che primo è l'ultimo film pure questo qua Avatar la via dell'acqua Abyss Titanic penso non potrà mai fare la pubblicità di Aparo Conti prima o poi sentiremo sentiremo anche James Cameron fare la pubblicità plim plim chissà chissà vedremo Fabrizio sì devo dire che il film non è neanche paragonabile a Tentacoli assolutamente per quanto concerne i film sui Piragna quello di Giordante per esempio è tutta un'altra cosa a mio avviso questo è un po' è vero un po' demenziale Fabrizio ma di chi è la colpa di Cameron chi l'ha fatto male film Cameron o a Sonidis la colpa è sempre di Cameron assolutamente sempre non c'è dubbio su questo e no poi questi pesci che non lo so mi immagino Fantozzi le descrive dice ma c'è un un coso un tot sono abbastanza fanno anche un po' ridere secondo me sono assurdi diciamo così si un tot la tromba sono la tromba sì no è un film tra i quattro diciamo che assolutamente non 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 sta non sta in piedi assolutamente a mio avviso pure i personaggi così non non mi sono rimasti molto né simpatici né impressi non genera tensione il film mentre tentacoli è proprio un altro pianeta tentacoli è un film questo non credo e e quindi niente niente ma io diciamo che sono abbastanza d'accordo è un film che comunque anche questo ha avuto una rivalutazione più che altro tra fan del genere perché vedo spesso anche collezionisti che che lo comprano ma anche buone impressioni io dico che è un film secondo me proprio per chi ama il genere e che forse stavolta si è voluto un po' troppo sfruttare il successo di Piragna di Giudante però in questo caso l'operazione non è riuscita del tutto forse si è voluto un po' troppo americanizzare ma non è un film secondo me che può competere con Piragna cioè secondo me è un po' la brutta coppia di Piragna a differenza di Tentacoli che invece ha una sua personalità nonostante il successo dello squalo va bene però qua diciamo che l'operazione non è riuscita del tutto io dico sempre che è un film per chi ama il genere i Piragna i squali tutte quelle cose con i contesti marini insomma Francesco pensi che appunto questa rottura che c'è stata nel corso del film tra l'altro abbia rovinato il film cioè se l'avesse fatto solamente un video secondo te sarebbe riuscito meglio ma non ho idea perché secondo me il film era proprio già così nel senso la tipologia di musica la tipologia di storia non penso che sia un film che è venuto male perché è travagliato penso proprio che anzi tanto è vero che lo sai dicono che Cameron andava a forzare il lucchetto della sala montaggio se lo rimontava quindi alla fine il film è stato come effettivamente lo ero a lui e ha fatto una cazzata come poi ha fatto pure altri film che non funzionano quindi voglio dire secondo me non c'entrava niente il fatto anche le musiche di Cipirani sono completamente differenti da quelle di Tentario io vorrei vedere Ovidio pagherei oro per vedere Ovidio e Cameron come attori in un film nelle parti di Rose e Jack chissà chi rimane sulla porta e chissà chi affonda la Rose secondo me secondo me faranno la ruota con zombie squalo subacqua di zombie 2 finiranno così che si aggrediscono i vicini comunque se fosse veramente vero come lui racconta nel contenuto speciale di tanto in tanto ci sentiamo io dico questo film fa schifo fa cagare vaffanculo la risposta di Cameron se veramente fosse così io vorrei stare là a guardare loro due che si offendono in maniera incredibile vabbè comunque è pazzesco tutto questo allora prima di chiudere voglio ricordare gli appuntamenti importanti di domani dopo domani e martedì mercoledì e giovedì della prossima settimana perché il Best Purture Awards si sta avvicinando allora domani dopo domani concluderemo con tutti i registi ripeto quelli invitati che hanno accettato di venire perché c'è chi per motivi di lavoro chi per motivi di visibilità chi per altri motivi non è voluto venire e quindi noi abbiamo invitato tutti o chi addirittura non ha Instagram e non intende aprirlo e non vi ne frega niente quindi domani avremo Pierfrancesco Campanella Andrea Bacci e Lorenzo Lepori poi sabato avremo inizieremo alle 21.50 con 20 minuti di ritardo avremo Aldo Iuliano Deborah Farina e Fabrizio Bayron Rink che ci presenterà anche il suo documentario insieme a così anche Deborah Farina poi martedì 11 mercoledì 12 giovedì 13 avremo tutti gli altri registi dei cortometraggi presentati alla seconda edizione di Spertiere Awards saranno tutti debutti tutti debutteranno Adore Talk quelli che hanno accettato di venire altre abbiamo comunque già intervistati nelle settimane precedenti martedì avremo faremo una marathon pensa Francesco inizierò alle 21.30 e chiuderò alle 22.45 sia martedì che mercoledì e giovedì invece finiscono alle 11 Fabrizio bisogna fare bisogna per Instagram sei sempre in diretta perché tutte le volte che apro c'è in diretta quindi farò farò la fine farò la fine di Nina di Nina di Tenergento farò quella dai senti Alessio che Alessio ce la faccio più questo allora vi dico esattamente ce la faccio più veramente guarda mi faccio brillare martedì 11 avremo Lorenzo Scalzo Giuseppe Schettino Cristiano Ciccotti Cristian Bacchini ed infine Letizia e Giorgi insieme a Francesco Stampati e poi mercoledì 12 avremo Saverio Lunare e Simona Rurale Simona tra l'altro abbiamo l'ho vista credo in linea Simone Micinilli Davide Mastrangelo Massimo Bulgarelli e Sebastiano Di Martino Sebbi Di Martino ed infine giovedì 13 mancano ancora mancano ancora la conferma di due registi però arriveranno Cristina Costabile Francesco Folletto Nicolai Servettini e Domenico Montichi Montixi Montixi scusate questi saranno i registi che verranno mancano ancora gli altri due di giovedì ma mi devono dare conferma se ci saranno perché poi il 17 dobbiamo andare di fretta perché poi il 17 ci sarà l'annuncio delle nomination alle ore 18 qui sul canale di di ore d'orrore no sul canale Instagram scusate del Bispertire Wars ma poi sarà pubblicato anche su ore d'orrore quindi prepariamoci sono veramente curioso ancora non so nulla quindi aspetto una cosa in più l'ho già pubblicato oggi su Facebook qualcosa l'ho annunciato nella diretta di ieri preparatevi perché ci sarà un annuncio importante che sarà fatto sul palco alla salita sul palco di un altro grande protagonista un annuncio che non sarà fatto adesso sarà fatto direttamente sul palco vedremo la reazione della persona che salirà sul palco quindi quanto mi piacciono queste cose sono un scema donna mi sento tipo a domenica live mi anticipa a tutti che io sono incinta sta buono eh mi anticipa a tutti che io sono incinta sta buono ah sei incinta di manzina vabbè allora scherziamo sulla cosa di manzina ma piace anche a me manzine però mi ci diverto ci sguazzo allora ragazzi horror camomile quindi non tornerà perché la prossima settimana sarà tutto dedicato dalle dirette di Ore Talk quindi vedremo un po' se come fare se è con la finestra sul thriller e con 500 del live no sono già superate 500 di dirette non so adesso a che punto sarò non mi ce la pensare buono francese buono francese dice Alessio allora ragazzi anzi Alessio io l'ho già parlato anche con Byron se ci vuoi essere anche tu in diretta vedi tre posti ci sono quindi Byron Rink mi piace chiamarlo Byron Rink come è il suo nome d'arte se vuoi entrare anche tu ovviamente ogni ogni regista dei cortometraggi rispetto a quelli dei lungometraggi avrà qualche minutino in meno un quarto d'ora però permetteremo a tutti di raccontare la propria opera presentata all'esperti dei Wors come dico sempre io le luogiazioni nel campo cinematografico e poi insomma i progetti futuri ah ci sei Alessio è grande bene allora grazie a il nostro Brutal Papers la nostra vampira lì la nostra la nostra sempre bella sempre splendida io ti amo ti adoro lo sai e amo e adoro pure Francesco lui è la mia nemesi divertente guarda come salire sentito oggi Fabri bene bene ah saluto anche la Freak Factory che è entrata che insomma partecipa attivamente in qualche modo anche essa alla seconda edizione del Vespertire Wors le case di produzione e di distribuzione sono molto importanti lo sappiamo ciao a tutti un bacione alla prossima buonanotte grazie a tutti grazie ciao